Qui, ci siamo dimenticati del mondo. È come se avessimo segnato un confine tra noi e tutto il resto. Così è troppo facile. Fuori c'è la fame, le malattie, l'idolatria del Tenai. La legge di Dio calpestata ad ogni angolo, i massacri per un pezzo di terra. I sacerdoti corrotti dallo straniero, lo stupro, l'assassinio, l'incesto, l'osso. E noi neanche li nominiamo. Abbiamo paura di sporcare la nostra purizia. Fratelli, sappiamo curare, confortare, sappiamo seminare la fratellanza. Vogliamo tenere per noi tutta questa ricchezza? O vogliamo restituirla al mondo? Svegliamoci. Siamo tanti. Diventeremo sempre di più. Ma dobbiamo tornare in mezzo al male. Portiamo come cura il nostro messaggio d'amore. Io vi sto parlando d'amore e voi non mi volete ascoltare. Avete persino paura di me. Ma io non provo ancora per voi. Prego strade e pulizia. Grazie a tutti.